Nel periodo 4-17 novembre l'indice di trasmissibilità RT calcolato sui casi sintomatici pari a 1,08 si riscontrano valori medi di RT tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle regioni province italiane a rilevarlo la bossa del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute la velocità di trasmissione dell'epidemia in Italia sta rallentando e si legge nella bossa del documento ha raggiunto livelli RT vicino a 1 in molte regioni e province in 4 regioni PART puntuale inferiore a 1 indicando una diminuzione significativa della trasmissibilità per la prima volta da molte settimane l'incidenza calcolata negli ultimi 14 giorni è diminuita a livello nazionale e indica l'impatto delle restrizioni nelle ultime settimane l'incidenza rimane elevata per permettere una gestione sostenibile pertanto sarà necessario raggiungere i livelli di trasmissibilità inferiori a 1 nella bossa del monitoraggio si legge ancora che quasi tutte le regioni sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile o a rischio moderato con altra probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane